Buongiorno, buongiorno, buongiorno! La nostra settimana inizia con il C-Stick. Oggi, grande partita! L'inizio è stato sicuramente bello, ma proseguiamo alla grande. La nostra alista è già in forno, la caramelizzazione è già iniziata e sarà con la crema di friarielli. I friarielli sono nel loro momento migliore, quindi non potevamo non prepararla. Ed eccola qua, perfettamente cotta. Adesso ci dedichiamo alla crema di friarielli. Ci siamo? Lo so, lo so. Eravate convinti che fosse finita lì, ma non è così. Anche il nostro roast beef è già in forno, perché stasera c'è una grande partita. Eccolo qua, il C-Stick. Appena tagliato... Anche il roast beef è pronto. Caramellizzazione perfetta come sempre. Adesso ci dedichiamo al fondo. Siamo quasi arrivati al banco. Nella tabella di marcia andiamo benissimo stamattina. Pronti per il banco? Iniziamo subito con il nostro polpettone. Eccolo qua, quello classico, prosciutto cotta e provola, lo spettino di carne bianca, lo avete già visto. Polpette e polpettine non mancano mai. Il nostro prosciutto di maiale, gli abugheri a formaggio, il filetto di maiale perugino, il C-Stick, il doppio soffritto, quello classico e quello di carne. Stamattina non ci facciamo mancare niente, c'è una grande partita e quindi siamo operativi per voi. Proseguiamo con le nostre cotonette di pittadino, gli impanati, la trippa e il fegato. Per il momento ci fermiamo qua, ma non ci fermiamo qua. Ci rivediamo sicuramente dopo. Una buona giornata. Buon lavoro a tutti, buona settimana e forza Napoli!